Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi siamo qua con un nuovo gioco che sembra praticamente un remake di Mr. Meat per PC Infatti il gioco è molto simile, con una grafica pazzesca Il gioco si chiama Psychoist Massacre Solo che la mappa in cui ci troviamo non è altro che la stessa mappa di Psychoist Hunt 2 Però rifatta proprio con una grafica pazzesca Quindi che dire, proviamo insieme questo gioco Ma prima di partire ci sono tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva E ci tenevo a ringraziare Bredetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale Ti ringrazio pertanto per il grande supporto Adesso direi di partire, cominciamo! Ve lo dico già, questo gioco è molto horror È praticamente molto simile a Mr. Meat Solo che la grafica è un po' più realistica Ecco, possiamo scegliere la difficoltà tipo estremo, facile, normale Oppure possiamo pure mettere la modalità pratica Ma io direi di giocare per il momento normale, giusto per provare Vediamo, va, che poi se vi piace il gioco posso pure riportarlo la seconda volta E provare anche le difficoltà più alte, no? Ok, allora la mappa in cui ci troviamo è la stessa di Psychoist Hunt 2 Quello che c'è sul Play Store Solo che praticamente gli sviluppatori hanno fatto tipo una sorta di collaborazione, no? Quindi ci troviamo qua Innanzitutto, vabbè, sentite facendo una cosa Tolgo qua con le impostazioni Sta telecamera che si muove E tra l'altro posso pure togliere la modalità WHS Vediamo qua Alziamo qua Un po' di luce Vediamo cosa c'è Ok, allora, Geiger Counter Cosa ci serve un contatore Geiger? E quello serve per misurare l'area di attività Vediamo se troviamo qualcosa di utile Va, cassetti vuoti Anche qua, cassetti vuoti Apri la porta Buonasera C'è qualcuno qui da queste parti Vediamo qui cosa c'è Uh, la macchina La macchina del macellaio Allora, non so se riesco già a completare adesso il gioco Perché praticamente è la prima volta che sono qui che provo appunto a giocarci Vediamo, ok Qui ho bisogno di un pezzo di legno Ci sono pure delle bottiglie di birra Beh, abbiamo un macellaio ubriacone, ecco Qui dentro c'è qualcosa Cassetti, ovviamente cassetti vuoti Te pareva Te pareva che i cassetti fossero vuoti qua Guardate lì davanti chi c'è Il macellaio E questa è la porta che noi dobbiamo aprire Dobbiamo scappare di qua Abbiamo bisogno del cutting plier No Le tongs Sono ritornate le tongs È come su Mr. Me Uh, chiave dell'auto Cioè guardate bene qua anche come tiene in mano gli oggetti Proprio come su Mr. Me Allo stesso modo Abbiamo la chiave dell'automobile Vediamo cosa possiamo farci Forse Aprire Dov'è che devo usare sta chiave? Ah, pezzo di legno Perfetto Metti qua dentro È che è uguale a Mr. Meat Chiave Master K No, no, no Aiuto Aiuto E dai E devo ancora un po' imparare qua con i comandi Però abbiamo già trovato la Master K La chiave che ci serve appunto per scappare E niente, subito presi qua Ora 1 Proprio come su Psycho Ant Che ci sono le ore Vabbè dai Vediamo proprio meglio come è fatto il gioco Voglio recuperare quella chiave comunque Perché già che ci sono Vorrei togliere un lucchetto Dove sono? Ah, ok Perfetto Siamo praticamente Non lo so Dove siamo? Ah, queste sono le fognature Anzi, più che fognature È la cantina Della casa del macellaio Ma vediamo qui se c'è qualcosa di utile Vediamo per curiosità Qui si può aprire No, guardate Le tongs Sono tornate le tongs Proprio come su Mr. Meat 1 Ma che bello Che emozioni Che mi sento emozionato Qui cosa c'è? Ah, una porta Posso togliere qua Chiodo Si chiodo numero 1 Chiodo numero 2 Chiodo numero 3 E qua bisogna usare la chiave del basamento Della cantina Che però Adesso però Io avrei una seria paura Vabbè Questo lo droppiamo di qua Velocemente Recupereremo subito la chiave Che sta qui sotto Era qui la chiave Dov'è? Ho potuto togliere qua i pallet Perfetto È la chiave che fino ha fatto Oh Macellaio Eccola qua Master K Recuperata Era sparita Non la trovo più Ok Io quindi nel dubbio Direi Di fare innanzitutto Molta attenzione Perché lì c'è il macellaio Vediamo sta Master K Dove devo usarla? Qui Forse qua Ok Sì sì Andavo usata di qua Quindi io però nel dubbio Me la fuggo E me ne vado nel piano superiore Via 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 Corri 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 Veloce veloce Eccolo lì guardatelo No 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 Cosa? Codice della cassaforte Ah ottimo Anche questo sarà molto utile No 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 Macellaio Per favore Mi lasci stare Per cortesia Mamma mia Che è sto rumore? Aiuto Cos'è? Aiuto Via 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 Mamma mia Mamma mia Scappa 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 Veloce 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 Ed è finito Il foglio che avevo in mano Mi è sparito il foglio Ma per cos'era quel rumore Che ho sentito prima Ho sentito Per rompersi un qualcosa Così a caso Va bene Andiamo qua Alzati da sta roba Anziché stare qui A piagnugolare sotto Ah ecco Però guardate Il macellaio Lascia le trappole Proprio come su Granny E questo è un serio problema Questo sì che è un problema Molto molto serio Qui c'è qualcosa Un contatore Geiger Che non ci serve a niente Cioè Forse Non lo so Che ci faccio io Con un contatore Geiger Mica siamo in una centrale nucleare E quello serve Vabbè No no E basta con ste trappole Via 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 No No Via Corri No Aiuto 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 Mamma mia mamma mia Sto coso Lasciami stare Lasciami stare Sto brutto macellaio Sai cosa ti faccio adesso Se non mi lasci perdere E allora Qui siamo praticamente Nella cucina Uh Frigorifero Mi piglio qualcosa da bere Tanto sto macellaio È un ubriacore Ci sono bottiglie Lattine di birro Ovunque Cioè È un alcolizzato Sto macellaio Eh Da un lato abbiamo Mr Meat Che è tipo Fissato con i maiali Anzi Con le persone Da trasformare in maiale Qui invece abbiamo Il macellaio ubriacone Cioè io mi chiedo Come faccio a tenersi in piedi Con tutta la birra Che si beve Ok qua Non c'è niente Qui dentro c'è qualcosa Vediamo qui Di lato Facendo attenzione No no Basta Con ste trappole Non si vedono neanche Perché è buio Cioè adesso ho fatto rumore Qualcosa Ero Effettivamente Infatti Corri 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 Veloce 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 Entra 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 Mamma mia Le ore Per entrare Allora Io però Non ho trovato Quello che mi serve Devo cercare Devo cercare Degli oggetti Ma quali oggetti Devo trovare E chi lo sa Se qua Riuscissi ad esplorare Senza farmi vedere Sto cosa ovunque sta Ok andiamo di qua Vediamo invece Cosa c'è qui intorno Apri il cassetto Vuoto Vuoto Qui dentro invece Cosa c'è Cassetto E cassetto è vuoto E ti pareva Ok Ah le tongs Anche di qua Vanno usate Anche di qua Ma che è sto bagno Ma che schifo Eh ma Una pulizia In sto bagno qua Ah ecco Dove aveva usato Il codice Qui c'è una cassaforte Però io ho bisogno Di un martello Per aprire Quella cassaforte Non so se sto video Sarà bollino verde O bollino giallo Non ne ho idea Ma chi se ne importa Lo faccio per voi A prescindere Da che bollino sarà Ok io però Le tongs Dove che l'ho piazzate ora Anche mi ricordo Ho bisogno Qui c'è la chiave Del basamento Ok della cantina Ma le tongs Dove sono Ho perso le tongs Dai Ma non ci credo Dove lo lasciate No 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 E vabbè Ma che roba Via Corre Oh forse Forse lì Forse quelle Quelle Le tongs Forse Non ne ho idea Lasciami stare No Mamma mia Aiuto 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 Ma facciamo un po' di jogging Macellaio Vieni qua Vieni qua Ma guardate È passato attraverso lo sportello Guardate quel macellaio Tutto quanto Incattivito Che vuole prendermi Ma cos'ha Attorno ai colli Dei salami Sembra tipo dei salami Ma io me la fuggo Me la corro Via 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 Corri 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 Veloce Veloce Allora Eccoli qua Trovate le tongs Perfetto Ora però Vediamo se sono abbastanza abile Da togliere qua Senza farmi vedere Almeno qualche look Che abbiamo tolto Perfetto E adesso Direi di fuggirmela Via Verso non so dove Qua si può aprire No Porta chiusa Qui dentro Posso aprire Vediamo cosa c'è Chiudi immediatamente Che Un telefono Un qualcosa Che è quella cosa lì Oggetti misteriosi E qua No io ho dei seri dubbi Che sto video Possa essere bollino verde Ho qualche dubbio Mi sa che sto video qua Ok c'è qualcosa Un cassetto vuoto Cassetto vuoto Qui dentro invece Oh Le cutting pliers Vediamo se posso utilizzarle Qua porta chiusa Non posso far niente Ok Allora abbiamo delle cutting pliers Se vediamo Se posso farci qualcosa Nel dubbio Me ne vado Ok Un'altra stanza E quante stanze ci sono Soprattutto quante lattine di birra Si beve sto coso Cioè veramente Secondo me Un alcolizzato in confronto È una persona Steme Uuuuh Il martello Abbiamo pure trovato E questo sì che sarà utile Allora Per prima cosa Direi di andare a tagliare I fili Che stanno qui sotto Ok Per fortuna Il macellare non è di qua Quindi taglia quel filo Perfetto Adesso Andiamo di sopra Andiamo a recuperare Immediatamente il martello Che sta qui di lato Veloce Corri 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 Mamma mia Mamma mia Ok Martello preso Cioè c'è una pistola Ah no Parte della pistola Eh te pareva Che mi dessero tutto quanto intero Te pare Via 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 E ora via Ulteriormente Mamma mia Mamma mia Corri 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 Veloce Dai Sto macellaio brutto Ok è andato in bagno Però io devo recuperare adesso Il codice Che sta di qua Perfetto Aspettiamo che se ne Io devo andare in bagno Dai Eccolo là Mamma mia Mamma mia Corri 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 Veloce 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 Ok Perfetto Se quello se ne va in bagno Io non posso aprirla a cassaforte Eh proprio ora Deve andare in bagno Macellaio No 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 Ho capito però Sentite Facciamo una cosa Facciamo il giro in questo modo Ok Tanto sto macellaio è mezzo cecato Quindi se io vado di qua di corsa Tecnicamente Potrei farcela Mi sa che non ce la farò Via Andiamo No non dovevo scendere Non dovevo scendere Eh vabbè Ok ok Vediamo se riusciamo a deviarlo In qualche modo Si è bloccato Ma cosa Ok forse di qua Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sali velocemente Verso Verso non so dove Ok forse mi ha perso di vista Eh no che non mi ha perso di vista Dai una vita intera Solo per Ok Vattene via Vattene via Mamma mia Sto macellaio Tre ore per andare in bagno Cioè veramente Se dovevo andare in bagno Me la sarei fatta sotto Per aspettare lui Eh vattene via Vattene via Ok ok Bene Sì Apri qua Velocemente Cosa c'è qua dentro Ok Chiave d'ingresso Qua dentro E ora Tecnicamente No Adesso devo completare Lo shotgun E come lo completo Devo trovare tutte le parti Io non so Non so Che che è sta roba Non ho idea Di che cosa sia Sto oggetto Ma cos'era Non ci posso credere Che adesso rischio di perdere Alla fine Due cose mi mancano Devo trovare La chiave Quella del basamento Della cantina Qualche E poi anche Eh no però notte due Dai che forse qualcosa Ce la facciamo Va Forse ce la possiamo fare Però si dà una mossa Ok si è bloccato Ah ok Si muoveva più No No Mamma mia Mamma mia L'ho trovato davanti Ma lasciami stare Una volta per tutte Lasciami stare Brutto Macellaio Vai qui sotto Va Facciamo una cosa Attiro qui il macellaio Così Io me ne vado Nel piano Come ho fatto A prendere la trappola Dai E non serve A niente E guardate dov'è Impaperato lì davanti Vabbè sentite Me ne vado di sopra Sperando di non beccarmelo Ok Forse qui intorno C'è qualcosa Qualcoggetto utile Cassetto Che vedi il garage Questo sarà molto utile Direi di fare una cosa Va Vediamo se posso A prendere il garage Con sta chiave Forse c'è qualcosa Lì dietro Forse Ok No Ma dai C'è una porta chiusa Sì ma è in tutto ciò Io sono ancora fermo qua Vabbè sentite Io lascio sta chiave Perché tanto non serve a niente Vediamo se riesco a farmela di corsa Fino al piano superiore Così pian piano recupero Le parti di shotgun Che di sopra Non vi sta una Quindi la vado subito A recuperare Che in realtà Solo questo Ho trovato di parte Non è che ne ho trovate altre Tre pezzi Sono in totale Dove sono gli altri pezzi In bagno Come ha fatto a trovarmi in bagno Tra l'altro Non posso manco più stare in bagno In totale tranquillità Vabbè In sto bagno È impossibile stare tranquilli Uè Buonasera macellaio Come stai Guardate Quel macellaio incattivito E niente Mi sono bloccato Non posso fare altro Vabbè sentite Facciamo una cosa Vediamo un po' Come finisce sto gioco Sennò qua ci metterò una vita Poi fatemi sapere Se volete vedere un video Dove ce l'andiamo a completare Tutto quanto Perché secondo me è interessante Poi ho pure visto Che c'è una porta segreta Detro quel garage Quindi gli segreti da scoprire Ce ne sono Va bene L'ultima ora Vediamo un po' Vediamo come è sto game over Almeno quello Comunque nel frattempo Voi non lo vedete perché Ovviamente ho tagliato Gran parte del video Tipo sta registrazione Sono quasi un'ora E ho cercato un po' Intorno alla casa Però non sono riuscito A trovare Nella chiave qua Per aprire sta porta E neanche Le altre partite Allo shotgun Devo vedermene meglio Perché magari sono dietro Non so Dietro dei quadri Perché qua i quadri Si possono pure togliere Dovrei esplorarmela meglio Macellaio caro Guardate qua E niente Vediamo il game over Spero di poterlo mostrare Perché sapete che YouTube Con queste cose Ecco qua La scena No Guardate Quella è la protagonista Ed eccolo là Il macellaio Ma che Si è messo una maschera Da maiale Che Però non ha Nessuna lattina di birra in mano Il macellaio Alcolizzato Quello No vabbè Guardate Si è avvicinato Cosa vuole fare No 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 Stai fermo Stai fermo E niente E' finita male Ma molto molto male Va bene Dai Allora comunque Questo gioco Viene sviluppato Da una sola persona Quindi se ci sono bug Varie cose Verranno poi Sistemate Va bene Dai Io direi di fare una cosa Direi che magari Per il momento Potevi vedere qual video Fatemi sapere Che vi sotto i commenti Cosa ne pensate Spero che questo video Vi vi è piaciuto Se vi è piaciuto Praticando Spalicciate Quindi vi vedete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Perciò nel prossimo video Come sempre Vi auguro Buon giornate Buon giornate Buon giornate Ciao a tutti Buon panino a tutti Buon giornate Buon giornate Buon giornate Buon giornate Buon giornate